Dory! 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 Nemo! Ti ho trovato! Mi hai trovato? Dory, eccoti qua! Non potete nuotare via così! Mi giro di spalle per un secondo e... Dory? Sentite questa! Parlavo con una vongola che ha sentito da una murena che parlava con un pesce azzurro la specie pesce azzurro, non solo pesce azzurro e diceva... Cosa hai sentito, Dory? Oh! Cosa ho sentito? Oh! Cavolo! Forza! Andiamo a casa! Casa! Ci siamo! Il parco oceanografico! È inondato! Inondato? Wow! Cosa credi che l'abbia causato? Cosa penso? Un sacco d'acqua! Beh, lo so, ma... E ora quei pesci hanno bisogno d'aiuto! Serve il nostro aiuto? Aiuto per cosa? Ehm, non lo so! Forza la vongola l'ha spiegato, ma... Non abbiamo più tempo! Ragazzi, andiamo! Dory! Forza, papà! No, 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 Nemo, aspetta! I pesci non ripuliscono le inondazioni Tradizionalmente siamo per l'acqua, sai? Più ce n'è, meglio è! Ma papà! Dory ha bisogno di noi! Ok, immagina che nuotiamo attraverso l'oceano verso il Pio, poi cosa? Cosa faremo? Non so che faremmo noi, ma... Che farebbe Dory? Ha accumulato molti chilometri, grazie a quella frase! Ragazzi, arrivate? Beh, sembra che si torni verso il Pio! Chi ci sta? Beh, eccoci qua di nuovo! Ah, vediamo! Stavo cercando qualcosa! Oh, qualcuno! Oh, salve! Beh, non è proprio la cosa ideale! Forse è stata una brutta idea! Interessante! Non posso credere che lo stiamo facendo! Ora, attenzione! Spero che non sia sempre così! Oh, per favore! Fallo finire presto! Oh, oh! Abbiamo guai! Ok, se davvero nuotiamo attraverso l'oceano, di nuovo, dobbiamo prendere la corrente della California! È un viaggio infelice e nauseante, ma è veloce! La corrente passa proprio qui davanti! Ecco, siamo qua! E ora? Ah... Guardate, Tumi! Attenta! Prima di correre via! Capiamo con cosa abbiamo a che fare! Facciamolo! Oh, wow! Sì, di certo c'è stata un'inondazione! Tutti i pesci si stanno riunendo e sembra che il personale stia aprendo gli scoli! Scarichi? Sembra proprio che abbiano il controllo! Ecco, vedi? Ehi, ci sono! I pesci andranno negli scarichi! Ehi, staranno bene! Chi finisce negli scarichi finirà nell'oceano! Ragazzi, quegli scoli non portano direttamente all'oceano! Mio! Ok, dobbiamo entrare e salvare quei pesci! Ma prima dobbiamo creare una sorta di rifugio qui nella baia, cosicché si sentano al sicuro quando arrivano! Immagino che molti di loro non abbiano mai messo pinna nell'oceano! La guida della missione indica la direzione e la distanza dell'obiettivo della tua prossima missione! Questo... questo non è semplice da capire! Ma perché mi metto in queste situazioni? Siamo sulla cima del mondo! Sulla cima dell'oceano! Beh, sulla cima di... qualcosa! Oh, che bello! Seriamente, perché lo stiamo facendo? Dove stavo andando? Ok, guarda il lato positivo! Oggi nessun calamaro gigante mi ha mangiato! Ci serve una specie di centro di accoglienza! Un posto sicuro per i pesci una volta che li tiriamo fuori di lì! E vuoi che sia fatto entro oggi? Sì! 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 Si muovono! Sono impauriti! Impauriti? Di cosa? Non c'è niente di cui... Mi sentite? Forte e chiaro! Molto forte! Bene! Vedete niente che sia... non so... fuori posto? Solo no! Cosa vuoi dire? Ehi là piccolino! Doni! Torna qua! Da quello che vedo alcuni souvenir del negozio di regali sono finiti nei tubi durante l'inondazione! Piccole cose buffe di plastica che nuotano! Sono capite in verità! Au! Ma non se ne vedi qualcuno! Stanno nella laglia! Sono alquanto imprevedibili! Papà! I giocattoli! E' di quelli che hanno paura! Hai ragione! E se i pesci non si muovono con i giocattoli intorno? Salve piccolino! Questo sarà un problema! Au! Bene! Dobbiamo riunire tutti i pesci e aiutarli a trovare i tubi che portano alla baia! Ricorda! Hanno paura! Quindi guidali con gentilezza! Mmm... Sicuramente è un buon inizio! ... Ho! Ok to cents! Oh... cambiuramente! Grazie per la visione! Non lasciare che i giocattoli ti vengano addosso! Sono solo giocattoli e tu sei un pesce! Ricordatelo! Per farti seguire dei pesci, devi avere educazione e sicurezza! Se avrai calma, loro l'avranno! Aspetta, vieni con me! 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 Beh, è una cosa diversa! Aspetta, vieni con me! 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 bello, chi ha vinto? Oh, ma guarda che roba! Abbiamo già finito lo spazio! Non avevo idea che ci fossero così tanti pesci! Ci servirà sicuramente molto più spazio! Ehi, allora dove è andato il gamberetto? Forse potrebbe togliere le alghe dalla barriera per noi! Alla prossima! Come sono arrivata qua? Ora che non ci sono più alghe, dovremo ampliare il centro d'accoglienza, così saremo pronti quando arriveranno gli altri pesci! Sì, credo che... di che si parlava? Alla prossima! Alla prossima! Oh, che bello! Non ti sembra un po' cupo questo posto? Non lo so, forse dovremmo vivacizzare un po' le cose! che ne pensi? Che bello! Che bello! trofeo? Non ho mai avuto un trofeo! Nuova sfida sbloccata! Salve! C'è nessuno? È ridicolo! Sto parlando in un tubo! Ehi, se mi sentite, sono arrivato alla quarantena e ci sono un sacco di pesci smaventati che vorrebbero una guida! Qualche volontario? Qualche volontario? Ecco fatto! Ehi, ragazzi! Ho sentito che avete un gamberetto pulisci alghe! È un'ottima notizia! Ho ecco localizzato la strada per la quarantena ed è bloccata da tubi coperti di alghe! Grazie! Oh, l'hai trovato! Ok, ora metti il tuo amico gamberetto al lavoro, lì sulle alghe. Ehi, mi devi una scusa? Ma ora non ricordo esattamente perché. Ehi, mi devi una scusa. No, tu sei. Il nostro corso gratuito è un'esplastica. No, non c'è perché non c'è. C'è un'esplastica. Il nostro corso gratuito è un'esplastica. Ehi, il nostro corso gratuito è un'esplastica. Sì, è vero. Grazie a tutti. 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 Andiamo. Finché non c'è nessuno starai bene. Ma se quel ragazzo con la torcia viene qui... Nasconditi. Hai capito? Occhio! Seguimi. Seguimi. Tutto bene. Non farti trovare! Puoi andare. Puoi andare. Psst, dis qua! Ah! Avanti! Non fate vedere! La via è libera! Vai! Attento! Non c'è qualcosa di più di più! Ini! Non c'è nessuno! Mentre un'altra parte! Non c'è nessuno! 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 Forza, seguimi! Arriva qualcuno! Puoi andare! Stai attento! Muoviti, dai! Stai attento! 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 Chiunque sia! Mi sono appena accorto che non abbiamo nessun posto per il nostro nuovo amico Gamberetto Troviamogli un luogo per rilassarsi dopo le pulizie Ho un'idea Perché non prendi la seppia e la porti in quell'area buia per esaminarla? Potremmo aver bisogno di nuovi posti per gli amici pesci Scommetto che il nostro amico Gamberetto vorrà un posto da chiamare casa Che ne dici di dargli una mano? Grazie 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 Sai una cosa? Scommetto che la seppia potrebbe aiutarci in quei tunnel molto bui della mostra Open Ocean Sono sicuro che ci sono ancora dei pesci là dentro Divertente, no? Nuova sfida sbloccata Nuova sfida sbloccata Ora vedo almeno qualche pesce a cui serve aiuto per arrivare ai tubi di uscita Riuniamoli così possiamo uscire di qua Volta, seguimi! Ho! 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 a aver paura, ti aiuto io. Ecco fatto! Io parlo malinese! Wow, com'è buio! Ma forse non è stata una buona idea. Cerchiamo quei pesci e andiamo via. Oh, una bandiera in questa è cattiveria. Stammi vicino! Bene! Stai andando molto bene! Stammi vicino! Qualcuno ha chiesto aiuto? Stammi vicino! Stammi vicino! Ehi, e qua? Oh, ecco qua! Ok, ok, capisco! Psst, di qua! Oh, ecco qua! Oh, ecco qua! Eccomi qua! Andiamo! Ottimo! Molto, molto bene! Sto diventando brava! O sono sempre stata brava! Attenzione, i tubi che portano alla vasca tattile sono un disastro! E' un bene che hai i tuoi nuovi amici con te, eh? Perché, uh, ti serviranno! Oh, una bandierina rosa si alza! Oh, ciao! Oh, no! L'acqua va nel verso sbagliato! Guarda se riesce a cambiarlo! Sbagliato! 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 Perdua la la aria! Sbagliato! 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 Sviiii! Ehi, questo era ingiusto! Oh, che bello! Ehi, vedo una valvola di controllo che potrebbe ridirezionare il flusso dell'acqua! Prova a usarla! Ok, sei quasi alla vasta! Ehi, scatatile! Trova il modo di entrare! Potresti perderti qua, se non... Oh, oh! Dove sono? Ci deve essere un modo! C'è sempre un modo! Forse sono troppo in alto! Sì, forse sì! Wow! Potrei averne uno! Oh! Sì, non è vero. Ah! 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 Hmm! Poso dovrei andare proprio nato! Beh, complimenti a vincitore, chiunque sia. Ehi, questa è la vasca tattile! Ottimo, è ottimo! In verità questo posto è un vero incubo. Oh, non posso credere di essere stato io a mandarti lì. Ma, ehi, salviamo i pesci, no? Buona fortuna! Mano, un'altra mano! Buona fortuna! Hai questo aiuto? Wow, è davvero un buon inizio! Aspetta, vieni con me? Ascolta, so che hai paura. Dico, immagino tu abbia paura. Chi non l'avrebbe? Io ce l'ho, ma tu puoi farcela, sicuramente! Ah, attenzione! Oh no, sta arrivando! Potresti perderti qua, se non... Siamo più o meno a metà, e vuol dire che manca ancora un'altra metà. Oh, qualcuno dovrà ripararlo. Oh no, qualcuno dovrà ripararlo. Riparato! Stai andando molto bene! Forza, seguimi! Mano! 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 Attenzione! Non ti far prendere! Non ti far prendere! Ricevo qualcosa, qualcosa di brutto! Non ti far prendere! Non ti far prendere! Non ti far prendere! Non ti far prendere! Viernà! Aspetta, c'è qualcosa vicino a te È vivo, quindi non viene dal negozio di regali Non è neanche un pesce Qualunque cosa sia, sicuramente lo puoi aiutare Beh, complimenti a vincitore, chiunque sia Pensavo che li avessimo presi tutti Invece ho sbagliato Deve essere per colpa delle alghe Una volta che ci scavi dentro, dovresti trovare i pesci Stai andando bene Eccomi qua, andiamo Dov'è quel paguro? Ti serve per attraversare le correnti Grazie 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 per attraversare le correnti Aspetta, vieni con me Aspetta, vieni con me Grazie per attraversare le correnti Grazie per attraversare le correnti Grazie per attraversare le correnti Grazie per la visione! 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 Oh mamma! Grazie per la visione! Muoviti! Muoviti! Divertente, no? Muoviti! Devo farti trovare! Arrête! Arrête! Eh! Et quoi? Occhio! Muoviti! 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 Ah! Ah! Così impari a provocarmi! Ah! 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 Beh, complimenti a vincitore, chiunque sia! Possiamo parlare per un momento del paguro. Quella cosa sulla schiena non può essere comoda e siamo onesti. Ha un odore molto cattivo. Dovremmo essere accoglienti e trovargli una casa. C'è terpia un'occasione che si fa, di tutto ciò che ha bisogno di capire di capire, Audra, e regge un'occasione che assicurata alla partecipi di quest'estate e non è solo un'occasione che si fiume... A dire umani, è l'occasione di quest'estate. E che un'occasione che si fiume una stagione innala e a senare a scampire di campagna? Grazie per aver visto se sono anche arrivato. Di solito di superi, non si è piacere... Non si è piacere di una scuola è più stata di metà nel ciò... Grazie per la visione! Oh! Che colpo! Nuova sfida sbloccata! Niente panico! Ma c'è qualcosa di sbagliato nei tubi che hai usato dalla baia alla quarantena! Dovrei tornare in un modo diverso! Ah, perché devo sempre dare le cattive notizie? Ma c'è qualcosa di sbagliato? Oh! 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 Grazie a tutti. 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 Cosa hai fatto? Grazie a tutti. 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 Sei tornato alla vasca tattile? Non è colpa mia. È chiaro a tutti, vero? Non ti ho mandato io lì. È stata una tua idea. Forza, forse dovrei andare un po' più alto. Stai andando molto bene Ricevo qualcosa Qualcosa di brutto Sta arrivando qualcosa Attenzione Sei pronto? Vieni con me Bambino, bambino Wow, è davvero un buon inizio Wow, questo sì che è qualcosa È il momento Attenzione Qualcuno ha chiesto aiuto? Oh no Non siamo soli Sta venendo verso di noi Fantastico! È fantastico! È fantastico! Siamo più o meno a metà E vuol dire che manca ancora un'altra metà Seguimi Seguimi Sono davvero colpito? Vedi? Ce l'hai in pugno Forza! Seguimi Attenzione! Fa attenzione! Wow Questo sì che è qualcosa Non ti far prendere Oh cielo Attenzione Io parlo balenei Oh è un piacere per la vista Mano 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 Ben fatto Oh no Non siamo soli Sta venendo verso di noi Ehi, questo è ben giusto È il momento Ci sei quasi! Eccomi qua Andiamo Beh, complimenti a vincitore Chiunque sia Non so se riusciremo a trovare il tempo Ma la nostra amica seppia Ha davvero bisogno di un luogo per sé Oh, scusa Parlavi con me? Ehi, questo è un piacere Cosa Non è un piacere Amore Mentre Cosa Chari La nostra Mi Accolandare Cosa 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 Oh, che colpo! Nuova sfida sbloccata. Eccoti, muoviti! Stanno trenando le vasche. Prendi più che riesci a trovare. E sta finendo il tempo! Psst! Di qua! Al lavoro! Occhio! Prendi più che riesci a trovare. 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 nelli. Quoi? Quoi? Al riparo! Muoviti! Cualcuno ha chiesto aiuto? 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 Stammi vicino. Ehi, così ci fa. Ah, non ci avevo mai provato. Stai pronto? Vieni con me. Ah, non ci avevo mai. Ah, non ci avevo mai provato. 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 Forse sono troppo in alto. Sì, forse sì. Wow, questo è qualcosa. Fantastico! Fantastico! È fantastico! Wow, questo è qualcosa. Aspetta! Aspetta! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, no! Oh, è un piacere per la vista! Oh, è un piacere per la vista! Ci deve essere un piacere per la vista! Ci deve essere un modo! C'è sempre un modo! Oh, no! Oh, no! Forse dovrei andare un po' più in alto. Oh, no! Sta arrivando! all'interno! Psst! Di qua! Oh, no! Qua? Oh, no! Oh Ben fatto! Attenzione! Eccomi qua! Andiamo! Ricevo qualcosa! Qualcosa di brutto! Forza dovrei andare un po' più in alto! Forza! Seguimi! Stai andando molto bene! Non ti far prendere! Oh cielo! Attenzione! Sei pronto? Vieni con me! Ci sei! Quasi! Di là! Per la bagliata! Si fa rima! Beh, complimenti al vincitore! Chiunque sia! Ah, ottimo! Ora stanno drenando tutto! Ok, ascolta. Hai già fatto cose abbastanza incredibili e ce la puoi fare ancora. Ma devi farlo velocemente! Ora vai! Vai! Aspetta! Vieni con me! Oh, scusa! 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 Non aver paura! Ti aiuto io! Di qua! Eh! E' qua? Quoi? Ah! 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 Oh! Las metis! Oh! Ah! Oh! 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 Dammi vicino! Forza! Seguimi! Questa è cattiveria! Ti insegnerà meglio a... Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Non so cosa mi ha preso! Eccomi qua! Andiamo! Cosa hai fatto? 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 Sì, sì! Grazie a tutti. 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 Davvero? Ok, ci sono tutti? Sì, sembra di sì. È appena in tempo. Eccoli gli scoli rimanenti. Mio, 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 Grazie a tutti